Katia Ricciarelli nasce in una famiglia poco agiata. La madre, abbandonata dal marito arruolatosi come volontario nella campagna di Russia. È costretta a crescere da sola le tre figlie. Katia, ultimogenita, ha avuta dalla relazione con un altro uomo conosciuto durante un soggiorno lavorativo in Germania. Dimostra sin dall'adolescenza un forte interesse per il canto. Svolgendo nel frattempo diversi lavori per sostenersi. Tra cui l'operaia in una fabbrica di mangiadischi. La madre, con grandi sacrifici economici, riesce a iscriverla al Conservatorio Benedetto Marcello di Venezia. Dove Katia studia con il celebre soprano Iris Adami Corradetti. Debutta a Mantova nel 1969 con la boheme ed emogene nel pirata di Vincenzo Bellini in selezione. In un concerto nell'ambito dell'autunno padovano per il Teatro La Fenice di Venezia diretta da Nino Sanzogno. Nell'anno successivo canta al Teatro Comunale di Treviso e a Leggio di Parma nel Trovatore. Al Teatro La Fenice di Venezia nel sogno di una notte di mezza estate di Felix, Mendel, Ison Bartoldi ed al Teatro Massimo Vincenzo Bellini di Catania in Anna Bolena. Massale alla ribalta nel 1971 dopo aver vinto il concorso internazionale Voci Verdiane della RAI. Insieme al tenore Beniamino Priore all'allora baritono. Poi tenore, Giuliano Bernardi, interpretando un'aria da Il Corsaro. Nello stesso anno debutta nel ruolo verdiano di Desdemona. Sempre al Comunale di Treviso. Nel 1972 è Medora nel Corsaro di Giuseppe Verdi al Teatro Reggio di Parma e al Teatro Verdi di Trieste. Minì nelle riprese di La Bohème di Giacomo Puccini al Teatro Reggio di Parma e nel Teatro Nuovo di Torino. Nello stesso anno al Teatro alla Fenice di Venezia e Giovanna nella ripresa di Giovanna d'Arco di Verdi. Maria Maddalena nella prima rappresentazione di La Ressurrezione di Cristo di Don Lorenzo Perosi. Con Lucia Valentini Terrani e Renato Brusone canta la messa di Requiem di Giuseppe Verdi. Nel 1973 è suora angelica nell'opera omonima nella prima rappresentazione al Teatro alla Scala di Milano. Al Teatro la Fenice e Giulietta nei Capuleti e i Montecchi e Elisabetta di Valois in Don Carlo. Con Nicolai Ghiaurov, Piero Capucilli e Fiorenza Cossotto diretta da Georges Pretre. Nel 1974 al Teatro Verdi di Trieste è Giulietta nei Capuleti e i Montecchi e Mimine la Bohème con Aos e Carrera se Ferruccio Furlanetto. Nello stesso anno è Luisa in Luisa Miller al San Francisco Opera e da lui è Nerstazzo per Mimine. La Bohème ed Elisabetta in Don Carlo ed è Mimì con PLC o Domingo alla Royal Opera House di Londra. Nel 1975 è Elena nella prima rappresentazione radiofonica in concerto nell'Auditorium Rai di Torino di Gerusalemme di Giuseppe Verdi con Ossi Carrera se Amelia ne un ballo in maschera al Wiener. Stazzo perre con PLC o Domingo e Piero Capucilli diretta da Claudio Abado al Covento Garden. Nello stesso anno debuta al Metropolitan Opera House di New York e come Mimine la Bohème con José Carrera sede anche Micaela in Carmen con PLC o Domingo e José Van Damme. Nel 1976 è Maria Boccanegra Melia Grimaldi nella ripresa nel teatro La Scala di Milano di Simon, Boccanegra di Giuseppe Verdi con Piero Capucilli diretta da Claudio Abado e Violetta Valerine. La traviata con Ossi Carrera se Giorgio Zancanaro al Teatro Verdi di Trieste. Nel corso della sua carriera si è esibita nei migliori teatri del mondo spaziando tra le opere di Puccini, Verdi, Rossini, Donizetti ed altri ancora, raggiungendo livelli di particolare eccellenza nella seconda metà degli anni settanta, interpretando Anna nella ripresa nel Teatro Regio di Parma di Anna Bolena di Gaetano Donizetti nel 1977 Tancredi, New York, 1978, alla Royal Opera House e Elisabeth de Valois in Don Carlos Cecomos e Carreras, Nicolai Giaurov e Grace Bumbri nel 1977. Luisa in Luisa Miller con Leo Nucci, Luciano Pavarotti e Richard Van Allen nel 1978 e nel 1979 con Renato Brusone P.L.C. do Domingo. Nel 1977 è Desdemona in Otello con Piero Capucilli a Lui e Nersa Zoper, Violetta intraviata a Bilbao con Juan Ponce ed Elisabetta in Don Carlo al Grande e a Tre de Geneve. In Bohem al Metropolitan di New York con Jose Carreras. Nel 1978 è Luisa in Luisa Miller con Leo Nucci al Teatro Verdi di Trieste e canta la petite messe. Solennelle di Giacchino Rossini con Lucia Valentini Terrani. Luigi Alva e Cesare Siepi al Teatro alla Scala di Milano. A San Francisco e Amelia in un ballo in maschera ed Esdemona in Otello. Al Metropolitan di New York ancora Desdemona in Otello e Luisa Miller e co-protagonista di uno. Storico trovatore all'Arena di Verona con Luciano Pavarotti. Piero Capucilli e Fiorenza Cossotto. Diretto da Gianandrea Gavazzini. Nel 1979 è Lucrezia nella ripresa di Lucrezia Borgia di Gaetano Donizzetti con Alfredo Krause. Buonaldo Giaiotti al Teatro Comunale di Firenze ed Eleonora Nei il Trovatore con Giorgio Zancanaro. E Fiorenza Cossotto ed Esdemona in Otello al Teatro La Finice. Inoltre Matilde in Guglielmo Tela Ginevra. Nello stesso anno alla Scala canta in un concerto di musiche di Verdi con Domingo. Ileana Cotrubas, Leonucci e Mirella Freni. Diretta da Claudio Abbado e dei Lucrezia Contarini nella prima rappresentazione di I due Foscari con Piero Capucilli nella stagione 1979-1980. Dotata di notevoli qualità vocali. La Ricciarelli non ha tuttavia risolto interamente un problema tecnico di impostazione del registro acuto. Causando un precoce declino dell'intera organizzazione vocale. Le filature che l'avevano resa famosa sono diventate sempre meno sicure e gli acuti sempre più precari. Negli anni Ottanta il declino si è fatto progressivamente più evidente. Causandole alcuni fiaschi. Soprattutto di fronte a ruoli troppo spinti per le sue caratteristiche vocali. Ad esempio, nel 1983 la Ricciarelli cantò la Ida alla Royal Opera House di Londra. Forte dell'incisione di due anni prima e dell'irrobustimento della voce. Ma fu fischiata a causa della difficoltà negli acuti estremi. Tre anni dopo. Fece il suo infelice debutto a Trieste con Norma. Che poi ripetè a Tokyo. Tant'è che il giorno dopo la rappresentazione la città fu tapezzata da cartelloni con scritto. Norma è morta. Inoltre è nota la performance alla scala del maggio 1989 con Luisa Miller. In cui la Ricciarelli riscosse un fiasco. Alla fine dell'opera la cantante uscì sul palcoscenico. Infuriata. Maledicendo tutti gli spettatori negli stessi anni Ottanta. Peraltro, la Ricciarelli iniziò una collaborazione decennale col Rossini Opera Festival di Pesaro e fu in. Grado di cogliere ancora successi notevoli. Talora anche clamorosi. Nel repertorio belcantista. Rossini stesso principalmente. Semiramide. Elena nella Donna del Lago. Bianca in bianca e faliero a fianco di Mary Lynn Orne. Ninetta nella Gazzaladra. Madama Cortese nella storica prima ripresa assoluta del viaggio a Reims sotto la direzione di. Abbado. Ma anche Donizetti. Si ricorda soprattutto una smagliante Lucrezia Borgia a Bologna nel 1984. Nel 1980 vince il premio speciale Giovanni Zenatello. Nel 1980 è Amelia ne un ballo in maschera con Luciano Pavarotti al Met. È Leonora nella ripresa di Il Trovatore di Giuseppe Verdi con Fiorenza Cossotto nel Nuovo Teatro. Reggio di Torino. È Lucia in Lucia di Lammermor con Giorgio Zancanaro e José Carrera Sala Royal Opera House. Giulietta nei Capuleti e i Montecchi con Agnes Balza Lui e Nersa Zoper. Per il teatro La Fenice di Venezia nello stesso anno canta lo Stabat Mater di Pergolesi nella. Chiesa di esse. Stefano con Lucia Valentini Terrani diretta da Claudio Abado e Maria nella ripresa di Maria di. Prudenz di Gaetano Donizetti con Leo Nucci nella stagione 1980-1981. Al Grande e a Tre di Ginevra e Donna Anna in Don Giovanni nel 1980. Violetta Valerine e la Traviata nel 1982 ed Amenaide in Tancredi nel 1990. Nel 1981 e Luisa in Luisa Miller con Leo Nucci. Carlo Bergonzi e Richard Van Allen al Royal Opera House e canta anche la boema al teatro Rendano. Di Cosenza, nel 1982 a Argelia nella prima rappresentazione in concerto nella Queen's Elizabeth Hall di Londra. Di Lesule di Roma ossia il proscritto di Gaetano Donizetti. Tiene un recitale nel teatro La Fenice. E Alice Fordi in Falstaff con Renato Brouson. Barbara Hendrix, Lucia Valentini Terrani e Leo Nucci ed è ancora Luisa in Luisa Miller con Jose Carreras e Leo Nucci Almet. Canta l'assedio di Corinto al Teatro Comunale di Firenze Aida. Che segna il debutto teatrale in quest'opera? Al teatro Rendano di Cosenza. Nel 1983 partecipa al Centenni al Gala secondo al Metropolitan Opera House, per celebrare il centesimo anniversario del MET. Inaugura la stagione del teatro alla Scala nel 1983 come lui inturando con Ghena Dimitrova e Placido Domingo, Rolando Panerai e Eraping, diretta da Lorin Maazel. Tiene un recital con Leone Magerra nel 1984 ed è madama cortese nella prima rappresentazione di Il Viaggio a Reims ossia l'albergo del Giglio d'Oro con Cecilia Gasdia. Lucia Valentini Terrani, Samuel Rami ed Enzo Dara diretta da Claudio Abado nel 1985. Tiene un recital nel 1988 ed è Luisa Miller con Giorgio Zancanaro e Giuseppe Giacomini nel 1989. A lui è Nerstazzo per Luisa in Luisa Miller con Ossi Carreras e Giorgio Zancanaro nel 1983. Amelia Grimaldin, Simon Boccanegra con Renato Brusone diretta da Claudio Abado nel 1984 e Maria Stuarda nel 1987, alla Royal Opera House Eleonora Neel Trovatore con Richard Van Allen e Jose Carreras e Desdemona in Otello con P.L.C. Do Domingo sempre nel 1983, nel 1987 e nel 1990 diretta da Carlos Kleiber. Aida nell'Opera Omonima con Luciano Pavarotti diretta da Zubin Meta nel 1984. Giulietta Nei Capuleti e Montecchi con Richard Van Allen e Tatiana Trojanos nel 1985 ed Elisabetta di Valois in Don Carlo con Samuel Amedagne Sbalza nel 1989. Complessivamente la Ricciarelli ha preso parte a 42 rappresentazioni al Covento Garden. Nel 1983 è Liu Inturando a lui e Nerstazzo perra e Violetta intraviata. Nel 1984 è Giselda nei Lombardi alla prima crociata all'Arena di Verona. Anna Bolena nell'Opera Omonima al San Diego Opera e al Teatro Sociale di Rovigo e T. Nevari recita al Fra Cui il Teatro La Fenice di Venezia e il Teatro alla Scala di Milano. Nel 1985 inaugura la stagione operistica al Teatro Petruzzelli di Bari con un'opera di Giancarlo. Menotti, Maria Golovin, S. Miramide di Gioacchino Rossini al Teatro Regio di Parma e al Teatro Comunale di Modena. Armida di Rossini al Teatro La Fenice di Venezia. Nel 1986 nel Teatro Regio di Parma e Elene nella prima rappresentazione di Gerusalemme di Giuseppe Verdi con Cesare Siepi e Veriano Lucchetti e tiene un recital. Con musiche di Giuseppe Verdi, Wolfgang Amadeus Mozart, Gioacchino Rossini e Gaetano Donizzetti. È Elvira nella prima rappresentazione nel Teatro Petruzzelli di Bari di I Puritani di Vincenzo. Bellini, Anna Bolena al Festival di Breggenze e Liù inturando allo Sferisterio di Macerata. Nel 1987 Violetta nella traviata al Teatro Vittorio Emanuele di Messina. Elisabetta di Valois in Don Carlo al Teatro dell'Opera di Roma e Manon di Massene e Tallò. Sferisterio di Macerata e debutta Elisabetta in Roberto de Verra al Teatro di San Carlo di Napoli. Nel 1988 è Maria Stuarda al Teatro Petruzzelli di Bari e Lucrezia Borgia al Teatro Socele di Rovigo. Nel 1989 è Desdemone in Otello a San Francisco. Per il Teatro la Fenice canta musiche di Richard Wagner ed aggiunge anche lo ex Sultate. Giubilate di Wolfgang Amadeus Mozart al Teatro G. Verdi di Padova nel 1988. E' Giulietta nei Capuleti e Montecchi nel 1991. Canta nel concerto di gala per il Bicentenario per la Fenice con Mariella De Via. Marilyn Orne, Raina Kabayvanska, Bernadette Manca di Nissa e Samuel Rami diretta da Georges Pretre nel 1992. Tiene un recital al Teatro Tognolo di Mestre nel 1995. Per la Fenice a Varsavia partecipa alla tournée del Gran Teatro la Fenice al Teatro Nazionale di Varsavia nel 1996 e tiene un concerto di gala al Teatro Malibra nel 2001. Nel 1990 fa la sua ultima apparizione al Met come Desdemona con P.L.C. do Domingo raggiungendole 47 rappresentazioni complessive a New York. Nello stesso anno canta la bohème al Teatro Giordano di Foggia e Tancredi al Gran Teatro de Geneve. Nel 1991 partecipa allo spettacolo Prima Donna. In piazza San Marco a Venezia. Con altre sette stelle della lirica. Daniela Dessy, Renata Scotto, Raina Kabayvanska, Mariella De Via, Luciana Serra, Cecilia Gasdia, Lucia Valentini Terrani con Daniel Loren sul podio. Nel 1992 al Teatro Filarmonico di Verona e a Lui Enersa Zoper protagonista di Maria Stuarda. Nel 1993 canta Maddalena di Coigny in Andrea Keny al Teatro Sociale di Rovigo e al Teatro Comunale di Treviso. Valentina Nelessa Ghegnoz di Meierbir al Teatro Coccia di Novara. A Lui Enersa Zoper e Maddalena di Coigny in Andrea Keny e con Renato Bruson nel 1992 e Fedora. Nell'opera omonima nel 1995, complessivamente il soprano ha cantato in 69 rappresentazioni allo stazzo per. Intensa anche la sua attività discografica. Divisa tra opere complete e recital. Tra le incisioni si segnalano il Tancredi Live alla Carnegie Hall e la Tosca. Più in generale le registrazioni datate anni 70, in cui l'assetto vocale era intatto. Nella sua attività lirica e concertistica ha collaborato spesso con Jose Carreras, Ruggero Raimondi, Agnes Balza, Samuel Rami, Lucia Valentini Terrani, P.L. Cido Domingo, Renato Bruson, Leo Nucci, ed è stata diretta da molti grandi direttori quali Riccardo Muti, Zubin Meta, Herbert von Karajan, Sir Colin Davis, James Levine, Claudio Abado, Lorin Maazel, Carlo Maria Giulini, Georges Pretre e Gianandrea Gavazzeni. Nel 1994, per i suoi 25 anni di carriera, è insignita del titolo di Cammer Sangerina Vienne e di grande ufficiale della Repubblica Italiana. Sempre dal 1994 collabora stabilmente col pianista Giovanni Velluti. Aggiunge un nuovo ruolo. Debutta Charlotte Inverter di Masseneta al Teatro Sociale di Rovigo. Nel 1995 debutta un ruolo per lei inconsueto. Rosina del Barbiere di Siviglia di Rossini al Teatro Fraschini di Pavia. E Anna Glavari nella Vedova Allegra di F. Le era al Teatro Filarmonico di Verona e li uinturando all'Arena di Verona. Nel 1996 canta in «Troppo troppo» e «Insieme lo denuncian» con Edoardo Bennato e di Solis String. Quartet contenute in quartetto d'archi. Album. E canta Fedora di U. Giordano nei teatri di Rovigo e di Treviso. Cenerentola di G. Rossini al Teatro Fraschini di Pavia. Nel 1998 canta Fedora di Umberto Giordano al Politeama Greco di Lecce. Per le stagioni 1998-99esimi e direttore artistico del Teatro Politeama di Lecce. Nel 1999 ha festeggiato il trentesimo anniversario di Carriera con nuovi debutti operistici. Fedora di Giordano. Concerti. Mostre. Un volume con la storiografia completa della Carriera. Un CD della Doice Grammofono con le arie più famose. Oltre a numerose apparizioni televisive e presenta su Rai 1. Insieme a Michele Cucuca e Gianfranco D'Angelo. Il programma Segreti è, Bugie. Nel 1999 canta la sua ultima Desdemona in hotello al Teatro Politeama di Palermo. Dallo stesso anno ha sfoltito la carriera operistica. Limitando la sua attività al Teatro Politeama Greco di Lecce. Dove ha cantato Adriana Lecouveror. 1999. E debuttato in nuove opere. Werther. 2001. Prima donna nelle convenienze ed inconvenienze teatrali. 2002. Rinaldo. 2003. Sempre nel 2002 Adriana Lecouveror a Reggio Calabria. Al fianco di Rossana Rinaldi. A tenuto dei. Concerti a Nuova Deli. Cordova. Buenos Aires. Cartagine San Jose. Cantando inoltre il ruolo principale nella premiere di una nuova opera. Il fantasma della cabina. Il fantasma della cabina. Andate in scena al Teatro Donizzetti di Bergamo il 13 dicembre. È in questo periodo che l'attività teatrale affianca la nuova carriera di attrice. Inizialmente in film tv e fiction. Successivamente in film d'autore. ricoprendo anche ruoli da protagonista come nel 2005 nella seconda notte di Nozze di Puppia Vatila. Cui interpretazione le valse il nastro d'argento. Nel 2008 ha partecipato al film Bianco e Nero. Di Comencini. Nel nuovo millennio volge inoltre la sua attenzione ai musical. Interpretando in tournele commedie Caruso. 2002. E Gloriosa. 2008. Nel 2005 è direttore artistico dello Sferisterio Opera Festival di Macerata. Nel 2006 partecipa al reality show La Fattoria. Venendo eliminata in semifinale con il 54% dei voti. Nel 2007 si candida per la coalizione di centro-sinistra alle comunali di Rodi Garganico. La Ricciarelli, infatti, è solita passare le sue vacanze estive nella cittadina garganica. Dopo due mesi ritira la sua candidatura in quanto incompatibile con i suoi impegni di carriera. Ma resta lo stesso legata alla cittadina marinara che più volte le ha dimostrato la sua grande ospitalità. Ma, non di rado, infatti, offre ai Rodiensi grande spettacolo della sua voce nel santuario della Madonna della Libera. Nel 2008 canta l'abbazia benedettina di Cava de Tirreni. In piazza Plebiscito a Mola di Bari. Nell'auditorium Domenico Modugno della Scuola Media Sarnelli. A Polignano di Bari e da Trascina di Sellinunte. Castelvetrano. Nel 2009 ha ricevuto la cittadinanza onoraria di Pellezzano. Comune in provincia di Salerno e tiene un recital nella chiesa di Sant'Alessandro di Milano. Il 6 novembre 2009 festeggia i 40 anni di carriera con un concerto al teatro La Fenice di Venezia. Duettando con le più grandi voci della musica classica e pop. Da Mietta a Cecilia Gassadia. Da Michael Bolton a Massimo Ranieri. Il concerto evento, condotto da Cristina Parodi, è stato trasmesso il 19 dicembre. In prima serata, su Canale 5, nel 2010 canta nella Cattedrale di Bari. Al teatro Regina Margherita di Racalmuto in Amorti canto. Le storie, la voce e gli amori. Opera scritta e diretta da Nando Unnessa. In piazza Ancomarzio Ostia e tiene un concerto sul sagrato della chiesa dell'Immacolata di. Scario. Nel 2010 è ospite fissa in qualità di giudice nella trasmissione Io canto su Canale 5. Durante il programma duetta e nessun dorma con il giovane tenore Michele Ferrauto. Nel 2010 ha partecipato al film e documentario Pupi Avati. Ieri oggi domani di Claudio Costa. Dedicato al regista Pupi Avati. Nasce nel 2011 la fondazione Katia Ricciarelli per la vita onlus di cui è presidente e cura la. Regia dell'Elisir d'Amore in piazza Suor Maria la selva di Polignano a mare. Nel 2012 canta nel Santuario della Madonna di Fatima a Trani. Nella Basilica di San Mauro di Casoria. Nel concerto per Agrigento. Al Teatro Pirandello e cantari ed opera al Palazzo Filangeri di. Cuto a Santa Margherita di Belice. Agrigento. Per la X edizione del premio letterario Giuseppe Tomasi di Lampedusa. In una serata condotta da. Rosanna Cancellieri.